Musica Qua varra la nave, ma cosa vuol dire sparare? Da vai c'èポdiro! Tipo! Ma cosa vuol dire sparare? Capi che dovrei farle? Alter! Stai per aver transito l'�onya! ma cosa vuol dire parare? ma cosa vuol dire parare? ma cosa vuol dire parare? si ma anche secondo me vieni mamma mia no vabbè no raga mamma mia 3 3 2 1 vai raga 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 ma cosa vuol dire parare? io sono un vero di rossi per avanti ma no ma cosa vuol dire parare? raga ma ci sono tre venditure non una raga vabbè no ci sono tre venditure e vedi? però sono sempre uguali sono uguali in che senso è che sono andato io? io devo fare solo quelle brava sono uguali raga io le ho provate tutte e due l'ultima l'ha fatta Antonio le abbiamo fatte tutte ma questo video qua è veramente una cosa? no no dai io sono pul di mattone e non l'ho e non l'ho che c***o è successo? ma secondo me cosa vi da quando noi torniamo alla lobby? ho morto il gencetto ma secondo me cosa vi da quando noi torniamo alla lobby? secondo me cosa ci da sicuro? secondo me cosa ci da sicuro? però è delusione secondo me ci da il maschio di Siona eh esatto ci sta ci sta ci sta tantissimo e ma io non lo so stai hello from me forse devo dare lo gratis raga ma a me non mi fanno entrare nella fenditura eh non lo so ok ah ma perchè dopo un po' scompaiono andiamo aiutati oh ragazzi ha un problemino non mi fa entrare niente la fenditura sono bloccato qua non ti posso far far niente no ma guardami qua la lega ma dai aiuto eh sì però c'è problema io non posso venire poi e vabbè no altre iscrizioni due verso cinque e qua ne manco volevo chiedere e che anni hai perché combattuto e p90 di merda davvero ah no no il comb raga non dite parolate raga mi chiedono il canale per favore non dite parolate per favore sennò mi chiedono il canale non ho bloccato niente ma perchè stai facendo video youtube? eh no guarda non lo sapevo raga raga io muoio mo eeeh raga però mi serve aiuto io muoio eeeh ti lascio tutta la bomba si si a quante chilometri? 2.000? ce la faccio e cento metri evitatemi andate alla velocità non ho un po' o bianca rapide rischiose vediamo non è neonata raga mi aiutate vabè o o o a me ti addio o a me ti addio I'm dead mamma mia sono morto in this video o Sto venendo! Sto venendo! Fammi prendere qualche arma! Vieni veloce! Sto venendo! Sto andando solo per 90 in terra! Chi se ne è? Dai ci sono ormai! E mi sono riusciti! Ma che devo dire a Vare? Baria! Vara! Adio! 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 Mamma! 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 C'è la mia stima! Raga a me sono morto! Non è giusto! Sono io lo youtuber! Via! Diamoci dei colpi! Vabbè puoi giocare! In tempi io voglio guardare! Oh io ho messo benissimo! Quanti ne hai? Di mazzo? Eh! Ehm... Una mazzone! Un mazzone di legno e 268 di ferro! Oh me lo dai un po'! No! È una cacata lui dai! Che amaro! Dai un po' di cielo! Dai un po' di cielo! Dai un po' di mazzone! E' appunto! Guarda su! E' con queste... Fatti il ferro è troppo possibile! Vedi che te ne dà un botto! Ne ho fatto solo 5, 2, 3, 3 e rullo loro! Non lo lasci? Ah no! La stessa la piazza! Ma va va! Oh my god no! C'è della pietra tra qui in terra! Sì sì sì! Ok è full cosa qua! Non è vero! Che pietra! Mi mancava di pietra! Mi mancava di pietra! Mi mancava di pietra! Così almeno è full di pietra! Oh no! Ma hai qualcosa di pietra? Perché non me l'hai detto! Ma mai! Ok! Ora mi cincinano! Cado della zona! E batti la zona! Oh my god! Va bene! È vicina! Io posso avere 160 metri! Sì 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 sì! Ma muoio! Per voi ci sono le armi mitiche? Eh? No! Fermetti! 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 A chi? A chi? A chi? Forse a tizzi che è andata sulla zipline che ora sta camminando! Caro! Ce l'hai vinto qua! Ma! Non me l'avevi capito! Ma chi? Ma chi? Mi è più di una rosa! Oio è più in alto! Mi sono andata! Ho mai avuto! Ho mai avuto! Ho mai avuto! Ho mai avuto! ragazzi andiamo alla roba e vediamo che cosa c'è andato per me non c'è andato niente che cosa secondo me è? c'è che ha dato uno stile segreto di Siona secondo me c'è la colorosa non c'è andato niente a me ha dato giusto adesso arriva no non c'è andato niente scommettiamo vabbè ragazzi è stata una delusione totale a me ha dato giusto solo perché ha fatto degli obiettivi no ragazzi dai dai va veramente vabbè dai ragazzi noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi mamma mia che delusione